In questo numero, terapie termali e trattamento delle malattie muscoloscheletriche benefici per pazienti ed SSN, no a fake news, premiate eccellenze dell'informazione scientifica, la dieta detox per dimagrire con gusto, e ancora l'esperto, anziani più a rischio carenza di vitamina D, madri e figli rifugiati a scuola di futuro con la comunità di Sant'Egidio. Il vero o falso di questa settimana parla di fecondazione assistita con tecnica di selezione genetica degli embrioni. E per concludere le news scelte per voi dalla redazione. Le terapie termali rappresentano un valido contributo nella cura delle malattie muscoloscheletriche, consentendo inoltre un considerevole risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale, una riduzione delle liste d'attesa e soprattutto per i pazienti un valido aiuto, da un punto di vista psicologico, nell'affrontare la riabilitazione. È quanto ha dimostrato una consensus conference promossa dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale, i cui risultati sono stati presentati al Ministero della Salute. Abbiamo chiesto a degli specialisti, a un numero congruo, cosa pensassero circa le cure riabilitative in ambito termale per le patologie muscoloscheletriche. Una volta terminata la fase acuta, tendenzialmente post-operatoria, post-interventistica, che si concentra nella fase ospedaliera, poter indirizzare le persone a continuare la riabilitazione nell'ambiente termale, sicuramente con vantaggi economici per il Servizio Sanitario Nazionale, a beneficio dell'utente e spesso anche con periodi di recupero più brevi e sicuramente con ottimi risultati. Mettendo a confronto il costo medio giornaliero per le prestazioni termali con quello di una giornata di degenza in dei hospital, gli esperti hanno rilevato un risparmio del 60% grazie alle terme. Lo Stato va a risparmiare se una quota di pazienti, quelli che non necessitano di un'assistenza sanitaria continuativa, se questa quota di pazienti, invece di essere ospedalizzata, quindi fare riabilitazione in ospedale, potrà essere trattata, quindi curata, in ambito termale. Per i pazienti si tratta di poter utilizzare e ricorrere ad un trattamento terapeutico sostanzialmente non solo efficace, ma anche privo di effetti collaterali. Per il Servizio Sanitario Nazionale si tratta di dare una risposta terapeutica adeguata attraverso un mezzo, una terapia che ha un costo del tutto ragionevole. Le cure termali sono dei processi importanti sia sulla prevenzione, sia per quel che riguarda l'azione terapeutica, che può anche ridurre, anzi incrementare la deospedalizzazione, che credo sia uno dei processi che in questo Paese bisogna agevolare. Scongiurare il ricorso alle fake news È lo scopo del premio Le Eccellenze dell'informazione scientifica e per la centralità del paziente, promosso da Affare Rete Onlus con il patrocinio della Fnonceo. Vincitori della prima edizione sono Takeda, Janssen e Sigma Tau per l'informazione scientifica digitale, Bayer, Pfizer e Medico e Bambino per l'informazione scientifica frontale, Bioproject Italia, Novartis e Alfa, Waserman, Simfer per l'informazione scientifica multicanale, Leofarma, Roche e Omega, Kefaro Pharma per l'informazione scientifica telefonica, per il progetto Passion Support Program hanno ottenuto il massimo riconoscimento l'IRCS oncologico di Aviano, Allergan e Abbi. Il premio speciale integratori alimentari e nutraceutici è andato a Doc Generici, il premio speciale malattie rare a Sanofi e quello per vaccini prevenzione alla Fnonceo. Il conto alla rovescia verso la prova costume è cominciato, ma c'è ancora tempo per lavorare alla forma fisica perfetta senza troppe rinunce. Nicola Sorrentino, nutrizionista dei VIP, propone una dieta detox che ha poche regole, chiare e semplici. La più importante è bere tanto e spesso. Nella dieta detox dobbiamo iniziare il mattino bevendo dell'acqua, due bicchieri d'acqua prima di iniziare la prima colazione, ma anche continuare a bere durante la giornata. L'ideale è bere 8-10 bicchieri di acqua al giorno. Un altro imperativo è muoversi regolarmente, mantenendo un'attività fisica costante e amica della linea e della salute. Quando poi è ora di mettersi a tavola, la parola d'ordine è leggerezza. D'estate gli adulti, ma soprattutto i bambini, devono introdurre più liquidi e devono mangiare soprattutto frutta e verdura, 5 porzioni di frutta e verdura, non dimenticando anche la frutta secca guscio, che è ricca di sostanze benefiche per il nostro organismo ed è il migliore spuntino o merenda per qualsiasi bambino, ma anche per gli sportivi. Sono concessi pane e pasta in dose appropiate, meglio se integrali, e per fare il pieno di energia con gusto non vanno dimenticate le proteine. La dieta detox ammette anche gli insaccati, purché siano quelli giusti. La bresaula è tra gli insaccati a più basso potere calorico. 100 g di bresaula della Valtellina IGP apportano solo 151 calorie, pochissimi grassi, 2 g, 2,5 g per 100 g di prodotto, tantissime proteine, proteine magre, di facile digestione, con alto valore biologico e con un buon apporto di amminoacidi ramificati. Il panino con la bresaula è un pasto completo, apporta tutto ciò di cui l'organismo ha bisogno, quindi ci permette di stare bene e di affrontare una parte della giornata. La carenza di vitamina D, un problema che riguarda ben il 60% degli italiani. Ma quali sono le categorie più a rischio ipovitaminosi da vitamina D? Certamente la popolazione anziana è la parte della popolazione a maggior rischio di ipovitaminosi D, anche per il fatto che con l'invecchiamento la capacità dell'acute di sintetizzare la vitamina D per esposizione alle radiazioni ultraviolette si riduce. Quindi in questa fascia della popolazione certamente ci deve essere l'attenzione da parte del medico con una supplementazione adeguata dell'ordine degli 800-1000 unità di vitamina D al giorno. Un'altra popolazione che deve essere l'attenzionata è quella dei pazienti sottoposti a un trattamento cronico con cortisone, trattamento molto frequentemente utilizzato, che può determinare alterazioni sfavorevoli dell'equilibrio del calcio e quindi tradursi anche in un ridotto assorbimento e un'aumentata perdita urinaria. Ambi due legati a effetti negativi che i cortisonici hanno sul metabolismo della vitamina D. Quindi anche in questa popolazione, indipendentemente forse dal rischio legato al fatto che il cortisone fa male allo scheletro, è importante garantire un adeguato stato vitaminico D. Con 1000 unità internazionali di vitamina D assunte ogni giorno, non si rischia un sovradosaggio? Il sovradosaggio della vitamina D si raggiunge quando vengono utilizzate dosi giornaliere che si portaggono nel tempo di circa 10.000 unità al giorno. Quindi la dose di 1000 unità al giorno è certamente una dose sicura, che non si accompagna a rischi particolari. Certamente la risposta terapeutica individuale è variabile e quindi è chiaro che ci potranno essere situazioni nelle quali questa terose è sufficiente, ci possono essere anche situazioni nella quale è insufficiente. Un gruppo particolarmente a rischio in questo senso sono i soggetti obesi, perché la vitamina D viene accumulata nel tessuto adiposo e non resa sempre adeguatamente biodisponibile, perché mi è chiaro che un soggetto che ha una massa corporea molto grande di un soggetto magro a parità di dose di vitamina D somministrata ne trarrà un beneficio inferiore. Ogni 10 migranti che arrivano in Italia, molte sono donne, alcune sono sole, altre con figli piccolissimi, ma tutte con la volontà di vincere la sfida dell'integrazione. È dedicato a loro il progetto della comunità di Sant'Egidio, Madri e figli rifugiati, dall'accoglienza all'inclusione. Il progetto ha come obiettivo l'integrazione di donne rifugiate con i loro figli. Riguarderà in un anno l'incontro in modi diversi evidentemente con 400 donne di nazionalità diverse. L'accompagnamento vuol dire cose diversissime, prima accoglienza, ma vuol dire anche consigli burocratici, accompagnamento alla domanda di asilo. L'altro aspetto importante che verrà curato dal progetto finanziato da MSD Italia sarà anche tutto l'accesso alla salute, perché è una delle problematiche più importanti di queste donne. Questo progetto ha anche come obiettivo quello non solo di favorire il diritto alla salute per le mamme e con i bambini, ma anche di favorire il discorso della prevenzione. Di qui un supporto su più fronti, dalla lingua al lavoro alla casa, per conquistare una propria autonomia, grazie a un'erogazione liberale di MSD. MSD da 125 anni ha come missione quella di prendersi cura. Siamo partiti col prenderci cura delle malattie. Quello che è il nostro mantra che ci ispira da 125 anni, ovvero che la medicina e in generale tutto ciò che comporta il settore salute, è per le persone. In questo progetto noi mettiamo salute e istruzione come opportunità di riscatto anche della dignità, perché ci sia un effetto volano moltiplicatore per tante donne, per tanti bambini, che sono poi il nucleo della società. Ma quale deve essere l'impegno della politica? Siamo di fronte a un fenomeno strutturale, quindi chi pensa che fermare le persone del Mediterraneo sia il modo per risolvere il problema, illude gli italiani e soprattutto li imbroglia. La comunità di Sant'Egidio costruisce, ha costruito un modello di accoglienza che include, crea sicurezza, crea salute, crea istruzione. L'accoglienza è possibile, anzi diventa un grande vantaggio per il paese. È vero che esiste una sola tecnica di fecondazione assistita? No, non è vero. Oggi esistono diverse tecniche di fecondazione assistita che si differenziano essenzialmente per la selezione degli embrioni da trasferire all'interno della cavità uterina. Solo chi ha malattia genetica deve sottoporsi a esami prima della fecondazione assistita? No, delle malattie genetiche rare possono essere presenti nella popolazione generale e quindi è bene sottoporsi ad uno screening che permette di verificarle. Oggi si ha una maggiore possibilità di successo con la fecondazione assistita? Sì, è vero. Oggi, grazie a nuove tecniche di selezione genetica degli embrioni, noi possiamo avere il 60-70% di successo trasferendo un singolo embrione con meno del 4% di gravidanze gemellari. Vengono eseguiti sempre due test prima di una fecondazione assistita? Non è vero. Vengono eseguiti due test solo se la coppia è portatrice sana di una patologia genetica rara. È superiore del 50% il successo con la tecnica di selezione genetica degli embrioni? La tecnica di selezione degli embrioni genetica, in termini di tecniche, una dieta pre-implantation genetic screening, consente di ottenere il 60% di gravidanza trasferendo un unico embrione. È vero, quindi. Può essere eseguita in tutti i centri la tecnica di selezione genetica degli embrioni? No, non è vero, è falso. Oggi può essere eseguita solo in centri altamente specializzati che hanno il know-how per fare il prelievo di cellule embrionali e quindi non l'idea dell'embrione, la vitalità dell'embrione. Oggi è possibile prevenire le malattie genetiche con la fecondazione assistita? Oggi abbiamo una tecnica che si chiama biopsia del trofectoderma che prende cellule simili a quelle che daranno origine poi alla placenta che ci permette di studiare tutte le componenti genetiche dell'embrione che noi vogliamo, quindi dalle malattie genetiche rare alle anomalie del numero dei cromosoli. Un gene suicida promette nuove speranze di cura per i bambini colpiti da un'ampia serie di malattie del sangue, tra le quali la leucemia, migliorando l'efficacia e la sicurezza del trapianto di cellule staminali donate da un genitore o da una persona solo parzialmente compatibile. Inserito negli infociti del donatore, questo gene può essere attivato dall'esterno attraverso la somministrazione di una molecola grilletto che spinge alla morte soltanto le cellule immunitarie che rischiano di compromettere la buona riuscita del trapianto, con effetti potenzialmente letali per il baby paziente. Alla guida dello studio, premiato dal 22esimo congresso degli ematologi europei a Madrid, ricercatore dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Un gruppo di 200, fra scienziati e medici di tutto il mondo, ha lanciato un appello chiedendo limiti stringenti all'uso di due antibatterici, il triclosan e il triclocarban. Presenti migliaia di prodotti, come shampoo, dentifrici e saponi per le mani. Secondo gli esperti, non sarebbero infatti più efficaci di acqua e sapone nell'eliminare i batteri. Potrebbero invece scatenare un aumento dei super bug, oltre a causare alterazioni ormonali, reazioni allergiche e altri problemi di salute. Il documento raccomanda di evitare l'uso degli agenti antimicrobici, tranne quando ci sono evidenze scientifiche di benefici per la salute, come ad esempio nei dentifrici per trattare le malattie gengivali, concludono gli autori. La presenza di triclosan, tricocarbon e altri antimicrobici dovrebbe essere sempre ricordata nell'etichetta e dovrebbero essere condotti ulteriori studi su queste sostanze. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata!